Proseguono le indagini dei carabinieri di Colli al Metauro alla ricerca delle cause del rogo che ha distrutto 5 pulmini adibiti al trasporto dei bambini delle scuole di Colli al Metauro e Cartoceto e reso inservibili gli altri 7, azzerando così di fatto il servizio di scuolabus nei due comuni. Nessuna ipotesi è scartata dagli inquirenti che non escludono la matrice dolosa e pertanto stanno indagando a 360 gradi sentendo tutte le parti interessate per valutare le posizioni dei singoli soggetti. Non sono state trovate tracce di effrazione nelle porte d'ingresso alla struttura e questo è un primo elemento. Altro elemento i rilievi fatti nel pomeriggio di ieri dai vigili del fuoco di Pesaro sulla scena dell'incendio alla ricerca di tracce d'innesco o di punti da cui sono partite le fiamme ha dato esito negativo. Non sono state trovate tracce residue consistenti di idrocarburi o di altri agenti infiammabili e questo è un secondo elemento. Inoltre, e questo è il terzo elemento, i vicini del Cappannone dove erano ricoverati i mezzi hanno dei cani da caccia che durante la notte, l'incendio si è sviluppato attorno alle 3.30, non hanno né abbaiato o manifestato con la loro animosità la presenza di estranei nei paraggi. Ma resta il fatto che i mezzi erano fermi da oltre 24 ore per cui una causa imputabile a mezzi meccanici resta difficile da valutare. Ultimo imputato per la causa accidentale resta un quadro elettrico vicino ai 5 mezzi andati completamente distrutti dalle fiamme sul quale si sono concentrate sin dall'inizio le attenzioni degli inquirenti, additato come possibile causa del cortocircuito che avrebbe così innescato il devastante rogo, il quale quadro mostra chiari segni in questa direzione. Ora le amministrazioni dei due comuni, mentre le intagini fanno il loro corso, si stanno adoperando assieme alla ditta appaltatrice per ripristinare il servizio di scuola bus per venerdì prossimo 24 maggio.